Bene, buongiorno, buongiorno, eccoci qua, buongiorno cari amici alla segna stampa di oggi lunedì 17 luglio. Allora vediamo, oggi ero molto incerto perché non riuscivo a capire se mi stava più sulle balle Bono, il leader degli U2 che si chiama in un'altra maniera ma si è voluto chiamare Bono perché è Bono, o mi sta più sulle balle l'ultima spiaggia di Capalbio a cui ho dedicato peraltro anche un capitolo del mio libro e sostenendo che io a Capalbio non ci vado e lo rivendico perché proprio quella roba lì mi disgusta, proprio quel miliella, quel generone romano che pensa di essere VIP e sui giornali si racconta come VIP che sta a Capalbio. Poi dopo uno si legge il libro della Ciabatti, molto divertente, e racconta questi cagosi che stanno lì a Capalbio. Vabbè ma ero incerto se mi stava più antipatico Bono degli U2 o Capalbio. Poi ho deciso che in realtà Capalbio non mi deve stare antipatico perché cosa succede oggi sui giornali? Ci siamo accorti su tutti quanti i giornali che ci sono gli incendi in Italia. È evidente che tutte le estate quando non piove ci sono gli incendi e vi dico pure che gli incendi in genere vengono in Campania, in Sicilia, in Calabria, nei posti più caldi del paese, in Puglia, non solo ovviamente, tante altre zone avvengono gli incendi e tutte le volte ci lamentiamo del fatto che abbiamo più forestali che piante, che abbiamo pochi canader, ogni estate racconta la sua storia. Quando poi gli incendi lambiscono l'ultima spiaggia, cioè l'ultima cagata di Capalbio, allora quando lambiscono questa spiaggia, beh allora arriva il Finimondo. E quando arriva l'incendio a Capalbio perché allora lì chi c'è? La Lanzillotta. L'ex ministro Lanzillotta, allora a quel punto, come c'è oggi scritto in un'intervista, viene intervistata e che cosa fa? Chiama il prefetto. Perché ovviamente quando arriva all'ultima spiaggia ci sono parlamentari, ci sono i cosiddetti intellettuali, quindi quelli chiamano direttamente il prefetto perché all'ultima spiaggia non ci possono essere gli incendi. Allora perché non mi sta sul cavolo l'ultima spiaggia in Capalbio? Perché noi dobbiamo far succedere tutto a Capalbio, così la gente si rende conto che le cose accadono. Allora, quando abbiamo visto che cosa è successo quando abbiamo portato dieci immigrati a Capalbio? C'è stata la fine del mondo. Ne sbarcano mille e cinque a Pozzallo e se ne fottono tutti. Ne arrivano quindici a Capalbio e l'anno scorso c'è stata la fine del mondo. In tutta Italia vanno a fuoco i boschi, nessuno se ne frega, ma vanno a fuoco quelli di Capalbio e succede la fine del mondo. Allora noi dovremmo utilizzare Capalbio come un laboratorio. Per esempio dovremmo prendere il proprietario della spiaggia di Capalbio e dovremmo mettergli là un uomo della guardia di finanza che fa nei suoi confronti quello che fa nei confronti dei piccoli artigiani o dei piccoli commercianti in tutto il mondo italiano. Cioè lo controlla ogni istante. Dovremmo avere là uno della ASL che controlla a Capalbio le uscite di sicurezza di tutti i locali pubblici. Dovremmo avere a Capalbio un controllo rigidissimo delle norme sul lavoro. Quante ore hai lavorato? 6 ore 32. Ti hanno pagato i due minuti in più di lavoro? Caporalato! E applicare lì le leggi del caporalato che abbiamo fatto. Cioè Capalbio deve essere il laboratorio di tutte le minchiate burocratiche italiane così ci rendiamo finalmente conto che cos'è l'Italia. Basta farla a Capalbio perché lì ci sono i VIP e la classe dirigente. Se glielo fai a loro si rendono conto di che cosa succede a noi poveri Cristi che invece siamo in altri posti in cui quelle robe lì si possono fare. Quindi Capalbio forever! Certo, resta il fatto che Capalbio talmente, come abbiamo letto l'altro giorno sul libro, è talmente un posto incredibile che non accettano gli immigrati e poi prendono il monumento a favore degli immigrati che è una cagata di barca che si chiama la barca della tolleranza. È un posto talmente assurdo che vogliono gli immigrati ma all'ultima spiaggia fanno una specie di barriera, ve l'ho già detto, perché non si vedono i poveracci che stanno nelle altre spiagge. Pieno Ciabatti, la figlia del chirurgo massone che ci ha raccontato nel suo libro che non ha vinto ovviamente lo strega perché ha vinto il libro di sinistra lo strega, le otto montagne, la rottura delle balle, è mostruosa. Insomma, Capalbio oggi mi ha dato più soddisfazione di Bono ma anche Bono mi ha dato un po' di soddisfazione. L'ho letto con Langone, scusate che bevo alla faccia di Bono e di Langone. Cosa ha fatto Bono? Ha fatto un concerto di grande successo, abbiati quelli che sono riusciti ad andare a vedere questo concerto degli U2, potrebbero farlo all'ultima spiaggia, e Bono ha detto ringrazio la guardia costiera italiana, voi italiani eroi che prendete gli immigrati, ma quali eroi? Noi non prenderemo manco un immigrato se potessimo, il 90% forse dei cerebrolesi che stanno lì e che fanno i fenomeni, probabilmente non sanno neanche di che cosa sta parlando Bono, se ne accorgono i loro genitori o i fratelli o le persone un po' senzienti che si rendono conto di cosa vuol dire accogliere, come tutti ormai si sono resi conto, persone che non siamo in grado di nutrire, accogliere e a cui dare un lavoro dignitoso. Beh, insomma, Bono oggi ricorda Langone, ce fa il fenomeno, ma c'ha la residenza spostata alle Antille olandesi, c'ha il jet privato, si fa i cazzi suoi, guadagna i miliardi, e come ha scritto l'inchiesta del Guardian, giornale peraltro di sinistra inglese, è il predicatore più ipocrita che esiste sulla faccia della Terra. Anche qui un riferimento letterario, c'è un grandissimo, grandissimo libro di Michael Crichton che si chiama Last Fear, che racconta questa ipocrisia delle star che raccontano ai loro centomila paganti durante i concerti quanto siete bravi, quanto fate gli immigrati, poi non gli concedono un selfie, viaggiano con i, come si chiama, gli aerei privati e spostano le loro residenze per motivi fiscali alle Antille olandesi per pagare meno tasse. Tasse che quei poveracci che pagano per vedere Bono pagano, le tasse le pagano quei poveracci, pagano il biglietto per sentire Bono che gli dice che sono dei coglioni, poi pagano pure le tasse, e con quelle tasse cosa si fanno? Si paga l'accoglienza per i migranti che Bono non paga perché le sue tasse non le paga stando alle Antille olandesi. Non so, vi rendete conto? Cioè, se tra Capalbio e Bono quale dei due mi sta più simpatico? Oggi leggo Langone sul giornale e ovviamente mi diverto come un pazzo. Lo YouSoli, un'altra di quelle genialate che ha partorito la politica italiana che già di fatto oggi c'è in Italia la possibilità di diventare italiani per i cittadini stati a 18 anni, diventano italiani, solo che noi, che siamo stati i più rigidi fino ad oggi, vogliamo fare i più aperti oggi con questa legge della minchia che ha pensato Repubblica e una certa sinistra. Vogliamo fare i più aperti e quando vogliamo fare i più aperti? Nel momento in cui c'è la bomba immigrazione. Cioè, una cosa che proprio ci voleva Einstein o Bono per pensarsela. Lo YouSoli, Gentiloni, capisce anche perché all'interno della maggioranza qualcuno che ragiona c'è, per esempio il ministro Costa che dice io non la voto sta fiducia, dice, sapete che dice, Gentiloni, ma lasciamo perdere, riprendiamo in autunno. E certo, se non cadeva il governo e né Mattarella né Renzi oggi vogliono che cada questo governo. La cosa più divertente è che i commentatori lo chiamano gesto, l'ho visto oggi su Corriere della Sera, gesto di responsabilità. Ma quale responsabilità? Ma questo, ma poi noi pure giornalisti, ma come cacchio parliamo? Gesto di responsabilità. Ma parla come mangi! Gentiloni non fa questa roba non per gesto di responsabilità, ma perché vuole continuare a fare il presidente del Consiglio. E va bene, ma non lo chiamare gesto di responsabilità. Si chiama gesto di sopravvivenza. Ma che cazzo c'entra il gesto di responsabilità se uno non fa il Lo YouSoli perché non ha la maggioranza in Parlamento? È esattamente il contrario, gesto di sopravvivenza. Favoloso, ovviamente sempre calabresi. Parla dell'occasione perduta nel non fare Lo YouSoli, io spero che sia veramente perduta, ma l'altra cosa che mi fa venire il sangue al cervello è che si dice sempre questi bambini che tifano pure le squadre italiane e non possono diventare italiani. Allora, intanto il fatto che tifino le squadre italiane è un dettaglio che a me interessa poco perché se noi dobbiamo unirci dietro al tifo e non forse ai nostri valori cristiano, giudaici, democratici, liberali, ma sul fatto che siamo dell'Inter, del Milan o della Roma mi dovete spiegare voi che cacchio di nazionalità c'è perché probabilmente ci sono più tifosi della Roma e della Juve in Cina di quanti ce ne siano in Italia. La mettiamo là, no? Quindi che cacchio c'entra il fatto che loro tifino italiano, squadre italiane, poi tifano forse l'Italia, boh, non lo so, l'importante è che tifino l'Italia semmai e non le squadre di calcio del loro paese, ma a parte questo, ma che senso c'ha dire il fatto che tifino Italia e squadre italiane come specie di paradigma del fatto che sono più italiani di noi, non sono più italiani di noi, non sono meno italiani di noi, oppure molto più italiani di noi, ma non è quel punto, non si vede sul fatto del tifo di una squadra di calcio, soltanto non so, uno proprio, che te posso dire, uno che, non so, deve essere un parente di Falcao, può scrivere, può dire una cosa di questo tipo, però fa il direttore di Repubblica, che poi c'ha quest'area capalbiese, scicchina, Bono, perciò devono vintare gli italiani perché tifano Inter o Roma, una roba pazzesca, vabbè. Ultima cosa, ultime due cose che voglio dire sempre sui Ussoli, vabbè, l'ONG si è capito che in realtà oggi si capisce bene dal Corriere della Sera che si impegnano, ma non vengono ordinate a fare determinate cose, la stampa lo nota e dice accordo al ribasso, ma meglio di niente, Repubblica, intervista Ricucci che esce dal carcere dopo dieci mesi, insomma l'intervista è nulla di che, vi dico la verità, me la sono letta, speravo qualcosa di più, non ci regala nessun divertimento, potete evitare di leggere l'intervista a Ricucci che partiva con un mio interesse perché Ricucci è un tale personaggio e quello dei furbetti del quartierino e quello di è facile far frociolo col culo degli altri, che questa frase è epica che lui disse e che tutti quanti ricorderanno, nell'intervista non trovate nulla di tutto ciò, scusatemi, mi sono dimenticato sull'immigrazione che Feltri dice una cosa che presuntuosamente avevo già capito io ieri e cioè il pezzo è se il governo non si ribella all'immigrazione lo faranno gli italiani, è quello che io continuo a dire in tutti i modi. Di Bono vi ho parlato, il fisco, oggi c'è su Corriere della Sera un bellissimo pezzo di Fraccaro, esattamente opposto a quello che ho letto l'altro giorno sul Sole 24 Ore che dava con questa rietta un po' da specialisti, dicono l'Italia a questa eccellenza nella capacità telematica, sì certo, un'eccellenza per faccio un culo così, chi se ne frega che c'è l'eccellenza e oggi Fraccaro ci spiega che nel 1986 Tremonti aveva scritto le 100 tasse degli italiani e sono passati 30 anni e abbiamo avuto più pressione fiscale, più numero di tasse e più pressione fiscale dal 36 al 43%, ma questi sono i dati di fondo, cosa c'entra la telematicità in quello che vi sto dicendo? La protesta sacro santa dei commercialisti che sono diventati dei tecnici informatici o dei burocrati kafkiani, avete presente il castello del terzo libro che cito oggi in cui quel signore non riesce mai arrivare al castello, ecco questo sembra il fisco italiano. Bene, il pezzo favoloso di Fraccaro pone un accento su una cosa che ho sempre pensato ma che lui scrive bene oggi, bastano 20 righe e sapete cosa scrive? Il problema della digitalizzazione e della, come la chiama lui, la telematica nel fisco è che la telematica del fisco non è fatta al nostro supporto ma la telematica del fisco scarica su di noi molti più adempimenti, cioè siamo noi che dobbiamo fare molti più adempimenti per soddisfare la telematica del fisco, cioè questo cervellone fiscale che ha tutto e allora c'è ragione che quello diventa un'oppressione fiscale ancora maggiore anche se con mezzi più tecnologici. Ultimo cosa, leggete, fantastico, San Lusti, il fondo oggi del giornale che meglio di me, ieri criticavo l'intervista di Davigo, prende di petto l'intervista di Davigo realizzata al Fatto Quotidiano di ieri con Marco Travaglio in cui dice come ti permetti di parlare di giornalacci parlando di noi senza nominarci, questo sì che è un atteggiamento fascista, non quello della spiaggia di Chioggia e anche questo l'avevo scritto io in una certa masiera ma la cosa più divertente che coglie San Lusti quando tu Davigo nell'intervista a Travaglio dici che molte nomine di magistrati fatte dal CSM sono opache, poco trasparenti, scusami ma tu sei un magistrato, c'è l'obbligatorietà dell'azione pinale in cui ci hai fatto due balle così, perché non sei andato a denunciarle queste cose? Perché non hai fatto il tuo mestiere da magistrato? Allora non fare le denuncette così a Travaglio, vai a fare il tuo mestiere visto che c'è l'obbligatorietà del... oppure stai zitto e non dire che ci sono questioni di cui tu dovresti occuparti da punto di vista professionale. Per oggi è tutto, vi do appuntamento domani con la zuppa di porro e con Capalbio. Speriamo che succeda qualcos'altro a Capalbio così l'Italia si renderà conto di una nuova emergenza. Ciao!